Con l'indizione dei comizi si moltiplicano le comunicazioni dei candidati a sindaco per le elezioni amministrative. Dopo quella di Salvatore Bartolotta, che sarà in competizione con Gino Bertolami a Novara di Sicilia, oggi è giunta quella dell'avvocato Antonino Todaro, che si confronterà a Montalbano e Licona con il sindaco uscente Filippo Taranto. Novara di Sicilia e Montalbano e Licona hanno un elemento in comune. Entrambi i sindaci uscenti chiedono il pass per il terzo mandato. Per quel che riguarda l'avvocato Antonino Todaro, 49 anni, ex assessore e consigliere comunale di Montalbano e Licona, si è detto pronto a guidare il paese con esperienze e competenze. Il neocandidato a sindaco, al momento dell'annuncio della sua candidatura, ha rivolto un in bocca al lupo al sindaco uscente, ricordando come Taranto sottolinei sempre il fatto che Montalbano e Licona sia stato nominato Borgo dei Borghi 2015. Da qui una prima dichiarazione. Nel 2015 il paese contava, secondo i dati Istat, circa 2.300 residenti, oggi circa 2.000. Siamo davvero consapevoli che la nostra amata Montalbano e Licona sia scomparendo e poi di seguito. È giunto il momento di chiudere un'epoca di indecisione, passare dalla realtà virtuale di Facebook alla realtà di ogni fascia sociale della comunità locale, individuando i problemi veri ed iniziando ad ascoltare le istanze dell'intera comunità montalbanese, riportando il paese ad avere nuovamente quel ruolo centrale nella comunità tirrenica oramai dimenticato. Nei prossimi giorni Todaro comunicherà ai componenti della sua squadra e un crono programma. Si è detto certo che coinvolgendo tutti i cittadini si riuscirà ad invertire il trend in atto di una pericolosa involuzione demografica ed economica.